Indice degli argomenti, design, tecnologia e sostenibilità in mostra al Cersaie 2022 Lavabo Freestanding Giovedi Idea Group Lavabo One Series di Webert Console e Lavabo Legacy di AXA Sistema Modulare Smart Top di Colavene Collezione Luxor di Arby Arredo Bagno Arredi Milanobat di Glass Design Doccia Color Art Pura 5000 di Duka Collezione Illy di Flair Showers Rubinetti Compact Box di Paffoni Sistema Omnia di Ponte Giulio Piatti Doccia Massimo e Silex Titan di Fiora Sistema Hang di Progetto Group Collezione White Label di Relax Design Piatti Doccia Naturwaver e Soleitevo di Acquabella Ambienti sempre più colorati per chi non ama la monotonia e vuole circondarsi di vivacità ed emozioni forti tutti i giorni, ma anche tendenze con nuance più delicate per gli amanti del dettaglio che può essere cambiato all'occorrenza per creare un ambiente sempre diverso e suggestivo. Il colore diventa elemento di sperimentazione anche all'interno della casa, con il vantaggio di saper disegnare lo spazio interpretando totalmente la personalità di chi lo vive, prendendo ispirazione, anche, dagli elementi della natura. Le forme degli arredi all'interno dell'ambiente bagno, dai lavavi ai mobili, dai piatti doccia ai sanitari, e gli accessori come specchi, maniglie, pulsantiere e appenderie sono studiati con grande attenzione all'ergonomia e al valore inclusivo di ciascun elemento, con l'intento di rendere la nostra casa più sicura per tutta la famiglia, bambini e anziani compresi. Infine, un'attenzione molto importante rivolta ai temi della sostenibilità e della tecnologia. Un'evoluzione del mercato che sta imparando a valorizzare una nuova consapevolezza attraverso un utilizzo intelligente delle materie. Prima di origine 100% naturale, rispettose dell'ambiente, delle risorse idriche ed energetiche. Design, tecnologia e sostenibilità in mostra al Cersaie 2022. A Cersaie 2022 abbiamo visto molte collezioni e allestimenti che oggi vi presentiamo con una ricca rassegna prodotti per proporvi. Qualche interessante spunto per la vostra casa, sempre però mantenendo fede ai nostri valori di sostenibilità e innovazione. L.A. Vabo Freestanding Giove di Idea Group. Al Cersaie 2022 l'azienda ha presentato i restyling delle collezioni di design più rappresentative del gruppo, Dogma e Dolce Vita, con novità disponibili sul mercato nei primi mesi del 2023. Il concept progettuale del restyling della collezione Dogma parte dalla rivisitazione della modularità e delle finiture, coinvolge lo sviluppo dell'iconico lavabo, che così consente di avere il piano integrato al centimetro, e di un nuovo elemento d'arredo, la Boiserie contenitiva modulare. Il Cersaie è stata inoltre l'occasione per presentare in anteprima il lavabo Freestanding Giove dalla caratteristica onda verticale, disegnato da Riccardo Gavai e realizzato in Crystal Plant, verniciabile esternamente in tutti i colori laccati Idea Group, che entra nel catalogo della collezione Dolce Vita, così come la proposta di nuove modularità per la collezione. Lavabo Helio Steel di Weber. Design e sostenibilità sono le parole chiave dei prodotti Weber. L'azienda ha presentato un utilizzo esclusivo dell'acciaio inossidabile 316 litri per produrre alcune delle serie più conosciute, sia bagno sia cucina. Per quanto riguarda il bagno, il lavabo Helio Steel, una serie completa prodotta totalmente in acciaio inox 316 litri. L'acciaio inox è un materiale sano, duraturo, atossico, non contiene tracce di piombo e non rilascia nickel, entrambe sostanze che possono provocare allergie e danni alla salute. A livello produttivo viene trattato solo mecanicamente, non subisce alcun processo chimico che può essere causa di inquinamento. Garantisce una durata eccezionale, data la sua solidità, ed è uno dei materiali migliori per il contatto con l'acqua potabile. Console e lavabo Legacy di AXA. Legacy è la console più lavabo di AXA. Una soluzione che sottolinea un abbinamento estetico e funzionale che da sempre caratterizza l'attività dell'azienda. Legacy reinterpreta in chiave moderna le forme classiche del lavabo in ceramica, con un bacino di forma rettangolare dagli angoli. Smussati disponibile in tre differenti larghezze, 60, 80 e 100 x 45 cm di profondità, e un'altezza di soli 12 cm. Compatto, ma efficiente, il lavandino si appoggia delicatamente a una robusta struttura metallica, corredata da un grande cassetto. Contenitore laccato nei colori avio, verde e moca dal profilo a gola. Un insieme armonico, ma concreto che gioca sul contrasto tra le forme essenziali e l'uso creativo del colore. È infatti possibile abbinare le nove tonalità del lavabo, 4 in versione e matte, sahara, nero, grigio, bianco, 5 lucide, bianco, petrolio, terra, tramonto e lago, alle tre laccature matte dei mobili, verde, avio e moca, sempre con struttura metallina nera a contrasto. Sistema modulare Smartop di Colavene Lavatrice, stendino, asse da stiro, cesti biancheria, cassetti e un lavabo con strofinatoio che diventa piano d'appoggio, tutto trova. Il suo posto nel sistema modulare Smartop, progettato da Colavene per arredare l'angolo lavanderia di casa. L'azienda ha pensato a tutto e sviluppato anche un mobile asciugatoio dotato di ventola integrata in cui appendere camice o abiti. Una soluzione super pratica dove riporre il bucato la sera per ritrovarlo asciutto la mattina dopo. Lavatrice e asciugatrice possono essere posizionate in colonna o affiancate, lasciate a vista o nascoste da ante. Su richiesta sono disponibili anche panche, pensili, mensole e barre appendiabiti. Gli elementi Smartop sono disponibili nelle finiture bianco matte, rovere chiaro, rovere primitivo e lava. Le ante a contrasto sono pensate in quattro colori lucidi, bianco, celeste, melanzana e antracite. Misura modulo singolo base, 75x65xh 91 cm. Colonne, 75x65xh 170 o 210 cm. Collezione Luxordi Arbi Arredo Bagno Luxordi Arbi è la collezione caratterizzata da un sofisticato minimalismo capace di esaltare il tratto semplice del design e la raffinatezza delle soluzioni tecnologiche. In una sapiente combinazione di varietà materiche e cromatiche, lanta sottile con apertura push pull e telaio in alluminio oro spazzolato, nero ossidato o bianco sviluppa un frontale a filo top concepito per accogliere eleganti pannelli dalle diverse finiture. I classici laminame grassi arricchiscono delle nuove tinte terra di materia e terra di saturnia, mentre a legno rovere si affianca la finitura mille righe, proposta anche in quarzo resina. Tra le recenti innovazioni anche la variante in treccio, disegnata dallo studio Garcia Cumini. Ogni composizione può essere abbinata a lavabbi, piani top, specchiere, faretti, accessori e complementi presenti nel listino Arbi e ai piatti doccia, vasche freestanding e termoarredo presenti nel programma Ibra Showers, dando la possibilità a chiunque di portare nella propria quotidianità arredi originali e totalmente made in Italy. Arredi Milanovat di Glass Design Ricerca, esplorazione, innovazione e nuove interpretazioni Glass Design inizia un nuovo percorso nel mondo dell'ambiente bagno introducendo i mobili come complementi di design capaci di definire nuovi stili e nuove percezioni estetiche. Ispirata alla città di Milano, capitale indiscussa del design, Milanovat introduce nuove ispirazioni e nuove soluzioni per progettare una particolare idea di sala da bagno elegante, funzionale e senza tempo capace di riflettere il ricco patrimonio artigianale made in Italy. Perfettamente abbinabili ai lavabi della ricca collezione per corsi privilegiati dell'acqua, lavabi raffinati e decisamente glamour, realizzati con materiali nobili come il vetro, il cristallo e il marmo oppure in materiali innovativi come il vetro freddo o il siliconio. I nuovi arredi Milanovat sono stati progettati per concretizzare un'idea di total look dalla forte valenza arredativa, che comprende anche accessori coordinati come specchi, lampade e oggetti per il bagno. Doccia Color Art Pura 5000 di Duca La proposta Color Art porta il colore nell'ambiente bagno, conferendo alle cerniere e alle maniglie di Pura 5000 una pila ancora più contemporaneo. L'alluminio delle cerniere e delle maniglie, dei modelli in argento lucido, si presenta ora declinato in 5 inedite finiture, bianco opaco, nero opaco, alluminio verniciato, nero spazzolato, ottone spazzolato e rame spazzolato, rivestimento in PVD, physical vapor deposition, che assicura resistenza ad abrasioni, graffi e corrosioni. La proposta Color Art di Duca è disponibile per le versioni di Pura 5000 con ess senza profilo. Il profilo a parete è realizzato in argento lucido, mentre nei modelli senza profilo il vetro laterale si presenta con serigrafia, abbinata al colore delle cerniere e delle maniglie. Le diverse finiture delle cerniere e delle maniglie consentono, così, di creare set diversi e originali per un'esperienza doccia. Completamente personalizzata, le cerniere, costituite da oltre 50 componenti, consentono l'apertura della porta sia all'interno sia all'esterno senza limitazioni, insieme alle maniglie, studiate per una presa comoda e sicura. Collezione Ely di Flair Showers La maniglia della collezione Ely in alluminio cromato si distingue per le linee ebriose e minimaliste. Estetica e funzionalità, alla leggerezza della forma si somma la praticità del porta asciugamano incorporato. Il box doccia Ely, con il suo profilo minimal, appare alla vista slanciato, più snello e alto, mantenendo comunque una struttura solida e stabile. L'innovativo binario è stato progettato per garantire uno scorrimento fluido e silenzioso e vanta cuscinetti a sfera in acciaio inossidabile, per offrire una movimentazione scorrevole. Lo stile della maniglia viene richiamato dalle cerniere in ottone cromato coordinate e leggermente arrotondate, per un look frizzante e vivace. A completare l'estetica sono i punti di fissaggio nascosti e le guarnizioni ultra trasparenti. Il sistema brevettato ClickFit rende l'installazione semplice e intuitiva. Questo meccanismo di assemblaggio non necessita di viti e assicura un'installazione facile e sicura, garantendo la massima solidità strutturale. Tutte le porte sono realizzate in vetro di sicurezza temperato da 6 mm con rivestimento anticalcare per resistere all'accumulo di sporcizia e facilitare la pulizia. Rubinetti Compact Box di Paffoni La serie di rubinetti incasso per applicazioni doccia e vasca compact è composta da miscelatori o termostatici ad una, due o tre uscite. Funzioni con design minimale in forma tonda o quadra, declinata con finiture cromo, still looking, nero opaco, bianco opaco, oro, oro spazzolato. I prodotti della serie compact sono composti essenzialmente da una parte ad incasso universale ove allacciare l'impianto idraulico. Le parti esterne che completano funzionalmente ed esteticamente il prodotto vengono fornite separatamente in un secondo momento e contengono tutti i frutti funzionali di comando e controllo dell'acqua e tutte le parti estetiche di finitura del prodotto. Questa possibilità di abbinare differenti combinazioni prodotto in momenti diversi della realizzazione del bagno riduce la possibilità di errore durante l'installazione, permette qualsiasi operazione di rimpiazzo o manutenzione durante tutta la vita del prodotto, agevola l'eventuale restyling del bagno. Per ottenere questi benefici il prodotto è stato dotato di scatola in casso stagna, corpi in ottone stampato, guarnizioni antivibrazione e guaina anticondensa, flange di fissaggio posteriori fisse ed anteriori regolabili. Aspetto ecologico, essendo possibile cambiare in toto i componenti dei prodotti compact anche dopo la rifinitura del muro, non è più necessario spaccare il muro per la sostituzione del prodotto, riducendo i costi e lo spreco dei materiali. Sistema Omnia di Ponte Giulio Omnia di Ponte Giulio è una linea di elementi versatili e completi che permettono all'utente di muoversi in bagno con sicurezza. Una serie di pulsanti per la richiesta di aiuto che, installati secondo le singole esigenze direttamente sui prodotti della collezione o sulle pareti, attivano una chiamata verso un numero telefonico predisposto rendendo possibile una conversazione in viva voce. La centralina, collocata nello specchio, viene gestita tramite una app semplice e intuitiva, Help System. Inoltre, un sistema di sanificazione integrato nello specchio con tecnologia PCO Photocatalistic Oxidation, attiva la rimozione di batteri, virus e muffe dall'aria e dalle superfici tramite una reazione chimica naturale e non invasiva, Safety Air System. I colori dei mobili, bianco seta e grigio Carrara, si abbinano alle maniglie disponibili nelle finiture standard bianco segnale, inox lucido e graffite. A queste tre colorazioni si aggiungono le versioni speciali customizzate, nickel nero, oro rosa, oro satinato, oro rosa satinato, nickel nero satinato, bronzo scuro satinato e nickel bronzo satinato. I sanitari sono disponibili nella versione lucida, bianco, nero e petrolio, e in quella opaca, bianco, grigio e nero. Design by Daniele Trebbi. Piatti doccia Massimo S. Lex Titan di Fiora. Massimo S. Lex Titan sono due modelli di piatti doccia che ampliano la gamma di prodotti leggeri del marchio in un formato più sottile. E leggero, sono tra il 30% e il 50% più leggeri dei modelli tradizionali, che combinano perfettamente design e pragmatismo, leggerezza e resistenza, innovazione e rispetto per l'ambiente. Massimo è leggerezza e benessere grazie alla sua struttura morbida, al suo tatto unico e alla sua comoda base. È il più leggero dei due e pesa la metà di un piatto doccia tradizionale con la stessa resistenza. L'equilibrio tra leggerezza e resistenza è disponibile anche in S. Lex Titan, una riprogettazione dell'iconico S. Lex Fiora basata sullo stesso concetto di semplicità. Riducendo il carico minerale e l'uso di materie prime nel processo di produzione, l'impronta ambientale di Massimo S. Lex Titan si riduce durante il processo di produzione e durante il trasporto. La leggerezza ha infatti un impatto significativo sulla logistica e sulla movimentazione di questi piatti. Una soluzione più leggera, che facilita anche l'imballaggio e lo stoccaggio dei piatti doccia. Sistema Heng di Progetto Group Heng si presenta al Cersei e con un look shocking agile, modulare e semplice da montare. La collezione su misura di Progetto Group parte da una struttura tubolare che ne è la base, la bacchetta, a cui poi è possibile aggiungere componenti a piacere. La parte fissa, la bacchetta, viene realizzata in alluminio ed è composta da un elemento centrale, nero o bianco. Per le due parti più piccole agli estremi, invece, ci si può divertire. Si può scegliere la propria configurazione tra diversi colori, salvia, celeste, cappuccino, bianco e nero, o coordinando alla versione in legno mogano e teglio, o ancora, nella versione più innovativa fluo. Le estensioni della serie Heng si illuminano al buio, generando così una luce di servizio per la notte. Sono realizzati in materiale fotoluminiscente che di giorno assorbe la luce del sole e di notte rilascia lentamente la carica assorbita, fino a un massimo di otto ore. Progettato e prodotto in Italia, il materiale è totalmente riciclabile e durevole nel tempo. Collezione White Label di Relax Design La collezione White Label è costituita da lavabbi, vasche, piatti doccia e accessori che si distinguono per le forme minimali e i dettagli ricercati, frutto della direzione artistica di ZE Studio e Art Direction di Plasma. I prodotti della collezione White Label vengono presentati, in look solide e nel materiale Luminate. Entrambe le Solid Surfaces, prodotte dai laboratori Relax Design, vengono iniettate in stampo a tutta massa e garantiscono il rispetto degli standard di igienicità e di performance a contatto con l'acqua. L'indagine sul colore e la sperimentazione sulla materia, portate avanti dall'azienda durante l'anno, Prendono forma attraverso la speciale Solid Surface Luminate, trasparente o traslucida, declinata in mini collezioni che includono lavabbi da appoggio e freestanding, vasche e accessori bagno. Piatti doccia Nature Wave Resolitevo di Acquabella I piatti doccia Acquabella sono totalmente personalizzabili nelle dimensioni e nel colore. Infatti, grazie alla loro composizione Enacron, che agglomera poliuretano e cariche minerali permettendo estrema facilità nel taglio. E nella lavorazione, i piatti doccia si adeguano agli spazi che la stanza da bagno offre, anche nell'eventualità di angoli, colonne o nicchie che talvolta possono ostacolare la progettazione dell'ambiente. Il modello Nature Wave si caratterizza per la particolare texture ondulata che ricorda piccole e delicate dune di sabbia che si formano sulla spiaggia, accarezzate della brezza marina, creando forme concentriche ora più strette, ora più ampie. Areia Soleitevo, invece, è ispirata alla sabbia presente sulla battigia, resa tale per l'effetto dell'acqua quando le onde lasciano la terra. Entrambi i modelli possiedono tutte le proprietà di Acron, alti livelli di igiene, realismo delle tex c'era ad alta definizione, elevata. Resistenza al tempo e all'usura quotidiana Foto in apertura, collezione Luxor di RBR do bagno scopri altre tendenze viste al Cersaie 2022 in questo approfondimento. Grazie a tutti.